La Guardia di Finanza di Urbino, su disposizione delle giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, ha sequestrato quasi un milione di euro a tre società di capitali resisi responsabili di una maxievasione fiscale assieme ad altre cinque persone. Dalle indagini è infatti emerso un articolato sistema di frode, noto come frode carosello, perpetrato da tre persone operanti nella spedizione di materiale propagandistico ed altre otto con sede a Cagli e nell'Interland Romano. Gli indagati si sono distinti per sistematiche fatturazioni per operazioni inesistenti e passaggi di denaro con prelevamenti frazionati in contante, tutti effettuati in un ristretto lasso temporale e tutti finalizzati a illecite restituzioni di liquidità agli effettivi beneficiari del contesto trufaldino prosto in essere. A seguito dell'attività delegata dalla Compagnia di Finanza di Urbino è stato possibile sottoporre a sequestro disponibilità liquide e beni mobili, tra cui somme di denaro presente sui conti correnti, per circa 500.000 euro già confluite a favore del Fondo Unico Giustizia e anche quote societarie e veicoli fino a un milione di euro.